La Virtus Francavilla-Caccio con Gallu che può ripartire sulla sinistra, ancora Ciccio Gallu, scende sulla fascia, allarga sinistra per Cristian Quarta, va Quarta ancora per Gallu, siamo sul fondo, la mette in mezzo, Montaldi non ci arriva e Gaglia rete! Gol da Virtus Francavilla-Caccio con Marian Galdian che la sblocca all'undicesimo. Siamo ancora a metà campo a Francavillese, infatti se ne incarica Vetruni che però può lasciare in convenza a Gallu. Promo dei fosi di casa in tribuna coperta a incitare la propria squadra, lancio lungo di Vetrunio a cercare Montaldi, chiuso di testa da Buono, quindi recupera a sinistra Quarta. Scende Cristian Quarta tra due per salari, ottimo, la mette in mezzo, attenzione di riterete! Arriva implacabile, la sentenza di rito, la sentenza di rito per il 2-0, il minuto 17, cross di Cristian Quarta a vuoto Ronzino. E di rito da 4-5 metri di testa, la mette dentro, sembra Vetruni in attenzione da provarci, per oltre la battuta va Vetrunio! Palo, palo di Vetrunio, clamoroso, poi Bricca, gioco fermo però. Va, recupera però Bricca bene stavolta, allora avanza di rito, larga a destra per lo stesso Bricca che scende sul lato corto dell'area di rigore. Lo fronteggia signore, Bricca allora indietro per Liberio che va al cross immediato, basso però, attenzione a Quarta, palla per Quarta, controlla 20 metri, avanza Quarta, si accentra il destro di Quarta, respinguto difensore, 21 assist per Montaldi. Montaldi, centro l'area, destro di Montaldi! Palla alta, non di molto. La va Gallù, verso il fondo, la mette in mezzo Gallù, salta Montaldi, destra rete! Rete, Hannibal, Deccannibal, Montaldi per il 3 a 0 al 44esimo, ancora azione a sua sinistra, micidiale. Bricca, poi va a chiudere benissimo Galli, è una torre di una prova magistrale quest'oggi, a parte il gol, Villa di prima per Montaldi. Ancora Montaldi, lascia a Villa nuovamente. Da questi in corridoio per Liberio, che scende sul lato, fa Liberio un'altra rigore, ancora Liberio, mette in mezzo, Montaldi aggancia! E c'è il miracolo di Esposito a fermare Montaldi. In moto, in calcio d'angolo, pronto a battere Alberto Villa, da destra, palla goal, clamorosa per il Francavilla, batte Villa sul primo palo, spiega la Bricca di destra! E c'è la rete! La rete per la Virtus Francavilla Calcio, il 4 a 0 per la Virtus Francavilla Calcio. I giocatori francavillesi hanno abbracciato Bricca, ma potrebbe anche essere stato in mischia una autoreta di un giocatore di Gallatina. Palla carambolata probabilmente sul piede, sul stinco di un giocatore di casa. Betrugno. Suo tre quarti per Galdian, tutti i palloni passano dai suoi piedi. In avanti Galdian per Biasson. Scende Biasson, arriva sullo tre quarti, energie fresche ancora lui, prova il destro, poi la distanza c'è la rete! 5 a 0, il destro di Turo Biasson, 22 metri, forse leggermente deviato da un difensore galatinese. E' diventato imparabile per il portiere di casa, Esposito. Dunque, al trentaseiesimo ormai, 5 a 0 per la Virtus Francavilla Calcio. Turo Biasson realizza la cinquina, secondo gol in campionato per Turo Biasson, più uno in Coppa Italia. Ha preso palla ai 40 metri, ha avanzato, ha trovato spazio davanti a sé, ha lasciato partire una bordata col destro dai 23-24 metri. Palla forse leggermente anche sfiorata da un difensore. Si è infilata all'angolo la destra del portiere Esposito, imparabilmente per il 5 a 0 per la Virtus Francavilla Calcio. Riparte ora il Galdian. Bricca all'indietro per Giovanni De Toma. Ricordiamo i gol, in primo tempo Galdian, Derito e Montaldi, ripresa autoreta di Signore probabilmente. E Biasson, Montaldi per dunque bene per Villa, solo Villa, l'area di rigore, ancora Villa, su posto col partito a destro! E la reta del 6 a 0, Alberto Villa, splendido assist volante al limite all'area di Montaldi per Villa, che si inserisce un'area da dietro, tutto solo, davanti al portiere. Destro ravvicinato in diagonale, imparabile, al trentottesimo per Esposito. Dunque minuto trentotto, la sua trequarta avversaria, larga a destra in corridoio per Serafino. Letta corto dell'area, mette indietro per Villa, ancora Villa, destro piazzato! E gran parata, anche spettacolare, plastica di Esposito, applausi del pubblico. Esposito, una bella parata in tuffo sul primo palo, a mettere in calcio d'angolo, a negare la doppietta di Alberto Villa.